Assessore, torna l'appuntamento con lo sport non va in vacanza. Diceva in conferenza stampa tanti sacrifici da parte dell'amministrazione comunale per garantire anche quest'anno lo svolgimento della manifestazione. Diciamo che mai come quest'anno abbiamo rischiato di non fare questa manifestazione. Poi dopo per tutta una serie di circostanze legate al fatto che abbiamo fatto in precedenza prima di approvare questa delibera sullo sport non va in vacanza abbiamo approvato una manifestazione di interessi da parte di sponsor abbiamo ricevuto già delle manifestazioni di sponsor che vogliono intervenire vogliono sostenere questo bel evento e poi dopo voglio dire anche da parte del CONI c'è stata grande disponibilità. Punto di riferimento soprattutto per le famiglie che in questi due mesi hanno l'opportunità di far stare i propri figli in ambienti sani, fare attività motoria e non solo e non a casa davanti alla tv o alla televisione. Quindi è un'attività soprattutto rivolta alle famiglie, è un'attività sociale. Il CONI ha prestato subito attenzione a questa manifestazione già 12 anni fa per merito del presidente Cornacchia perché si ha attraverso questa attività anche l'opportunità di far provare ai giovani e ai ragazzi delle varie attività motorie nella speranza che loro poi finita l'attività continuino presso le varie associazioni delle città a fare sport.